Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto imprenditore Gianluca Vacchi ha vissuto ore difficili a causa della morte del suo amato cane Gordo. Attraverso un lungo post su Instagram, Vacchi ha voluto rendere omaggio al suo fedele amico a quattro zampe. Nel post, Vacchi ha condiviso un video che racconta alcuni dei momenti più belli trascorsi insieme a Gordo. Con grande commozione, l'imprenditore ha espresso il suo dolore per la perdita del suo amato figlio, definendolo un angelo che è sempre stato presente nella sua vita. Gianluca Vacchi ha sottolineato come Gordo abbia insegnato a lui e alla sua compagna il vero significato dell'amore incondizionato. Con parole toccanti, Vacchi ha descritto il vuoto lasciato dalla scomparsa del suo amico a quattro zampe, che ha lottato fino all'ultimo per restare al suo fianco. I fan di Gianluca Vacchi hanno mostrato grande vicinanza e affetto nei commenti al post, inviando pensieri e cuori per confortare l'imprenditore in questo momento di dolore. Tra le parole di sostegno c'è chi ha incoraggiato Vacchi a rimanere forte e a sorridere, sicuro che Gordo vorrebbe vederlo felice. La perdita di Gordo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Gianluca Vacchi, che ha voluto condividere il suo dolore con i suoi follower su Instagram. La storia di amicizia e amore tra l'imprenditore e il suo cane ha commosso migliaia di persone.